C'era una volta l'inviato speciale, oggi non c'è più, ma resta la passione, la capacità, la curiosità di poter scoprire e raccontare ciò che le tecnologie permettono di vedere solo in superficie. Il messaggio arriva dalla presentazione del volume autobiografico di Franco Baldo Chiocci, per 15 anni inviato del tempo in tutti i principali eventi nel mondo. In una sala refettorio della Spirelliana Follata, il giornalista Eugubino è stato affiancato, nell'occasione, dal suo storico direttore Gianni Letta, che ha voluto essere presente insieme al figlio dell'autore e attuale direttore del tempo Gianmarco Chiocci e all'ex vice direttore delle GR1 Radio Rai Paolo Corsini. Un piacevole scursus attraverso la carriera di Chiocci ha caratterizzato l'intervento principale di Gianni Letta, che ha saltato le doti narrative e le qualità descrittive dell'inviato Eugubino, capace di cogliere aspetti e dettagli sempre accattivanti. Fosse una guerra, un evento mondano, un'intervista esclusiva ad un personaggio internazionale, Chiocci sapeva cogliere una chiave mai banale, scontata offrendo al lettore la notizia, ma anche tutto ciò che poteva starci intorno. Significativa anche la testimonianza di Gianmarco Chiocci, che da un anno è tornato al tempo, dove era entrato per la prima volta appena a nove anni, accompagnato dal padre. E' simpatico il ricordo di Paolo Corsini, fondatore dell'associazione Lettera 22, che ancora conserva, comunci meglio, la macchina da scrivere Lettera 22 di Chiocci. A moderare l'incontro il direttore di TRG, Giacomo Marinelli Andreoli, mentre in prima fila ha presenziato anche il sindaco Stirati. Gianni Letta, in una delle sue rarissime dichiarazioni in pubblico, non si è sottratto a qualche sollecitazione, anche sulla sua seconda carriera, da pleni potenziario delle premier Berlusconi, di cui è stato sottosegretario del 1994 e il 2011. Senza dimenticare la storica crostata, che ha dato il nome al patto sulla bicamerale tra Berlusconi e D'Aleman in 1997, che fu consumata proprio a Casaletta. Un lungo applauso ha chiuso la serata, ricca di spunti, ricordi, aneddoti e nostalgia, per un giornalismo che forse non potrà tornare, ma che certo rappresenta un modello e un esempio nella verve, nella passione, nella qualità espressiva.